Un 79enne di Castelfranco Veneto, impresario edile in pensione, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Da diverso tempo, secondo il racconto della moglie, la malmenava, la picchiava. La sua ira era spesso e volentieri scatenata da piccole cose di ogni giorno, senza alcuna importanza. Ieri l'ennesima violenta aggressione con la vittima, che di anni ne ha 69, presa a pugni, calci e spinte. La donna ha chiamato i carabinieri che, intervenuti nell'abitazione della coppia, hanno bloccato il marito manesco e lo hanno condotto prima in caserma, poi in cella, nel carcere di Santa Bona, dove, in attesa dell'udienza di convalida del provvedimento, difficilmente potrà tornare sotto lo stesso tetto della consorte.